Alessio Ecco il mitico Verdone Guarda lì come si fa a 120 anni in tre Si è rovinato Guarda lì a me romper ghiaccio 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 Ah è due Arrivarsi a zalla sarà due Che botta è salva Allora ora ci rifai il cocktail che hai creato apposta Guarda lì Guarda lì il mio è più basso Parecchio più basso Guarda lì a me romper ghiaccio 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 è sparita la barista guarda cosa ci mette se ci ha messo un amaretto di saronno mettici anche un po' d'arche a me se ci dice che fa ti nascondi mi sa se ci starebbe bene un po' di pop ma voi me la vedete ah mi sembrava ci mancasse qualcosa scusaci eh non ce n'è più ci manca la miscela al 2 poi ci ha messo tutte dopo la razza io non sai se ci ho messo la miscela ecco il caldo ecco il caldo ecco il caldo è bota che bella è bota ma scappa ci piglia perco si si con me si è scolare bottiglia è scolare bottiglia capito è quello lì a modo suo diciamo che ci ha visto briare diciamo che posso da così esatto è la sega della fragola fu un caldo questo questo ragazzi questa è la specialità ma non ci metto il tocco finale mi si fa un autografo grazie come la vedi come la vedi come la vedi la vedi la vedi è la nostra è la nostra è la nostra la mia sinistra